Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano codi a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in a 1 per consentire lavori di pavimentazione, stanotte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze Sud in uscita per chi proviene da Bologna. Sulla Fipilin direzione Firenze, rallentamenti per lavori tra Empoli ed Empoli Est. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!